Questo gruppo di case qua, io mi ricordo quando i miei figli erano quanta anni, c'erano qua, c'erano, cioè Jacopo, c'erano cinquantina di persone, erano trenta, quaranta erano loro, nove erano solo questi qua. A casa mia pure c'erano due, poi i nipoti, i figli di Sintonio che stanno in America, erano una trentina i ragazzi, di tutte le età. La strada era chiusa, prima di tutto a giocare qua, ma nessuno, parecci sono morti, parecci sono andati all'estero giustamente, che vengono a fare lavoro. Il mondo prima di tutto era 1960 persone, oggi siamo sulla carta 1400-1450, però il centro che era molto abitato, oggi siamo un po' allargati nelle frazioni, ognuno che aveva pezzi di terra ha cercato di fare la casetta, il villetto. Con il terremoto, chi aveva la casa vecchia, sono stati aiutati, le costruzioni sono tutte nuove. E' un po' spopolato il centro, perché ognuno, forse avevano pochi inquieti in più là. Secondo me ci siamo un po' allontanati tra di noi. La sera si usciva, non c'era la televisione, probabilmente ho veri testiti. Ognuno si è affattato la televisione, si fa questo.